Quello che noi facciamo è di restituire un po' di male a chi fa del male. Qualcosa era successo. Non è un'aggressione da gang, da ubriachi. I simili si attraggono. Pestaggio di forza. Lucido, professionale. È una donna. La bambina sarebbe tornata. C'è veramente qualcuno che fa domande su di voi? Questi film qui non li fa in due minuti. C'è un montaggio, una drammatizzazione, un prologo, un epilogo. Una messa in scena con del sangue vero. C'è del teatro. Esagerato come al solito. Ma no, Adamo, non è successo nulla. Hanno risposto e ho risposto pure io. Cosa è successo? Ma sei stato tu a ridurlo così? Agatha Film presenta... Nero. La serie. Ti manca una videocamera e non sei tanto diverso dai tizi che cerchiamo. No. 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 No.